in qualche vecchia rivista o giornale ricordo d'aver letto la storia riferita come vera di un uomo cui daremo il nome di wickfield il quale abbandonò per lungo tempo sua moglie questo fatto così astrettamente enunciato non è particolarmente insolito e senza un'opportuna descrizione delle circostanze non può nemmeno essere giudicato crudele o insensato non di meno anche se non è il più grave questo è forse il più strano caso registrato di inadempienza nei doveri coniugali è anche un singolare esempio tra quanti se ne possano trovare in tutti gli annali delle umane stravaganze la coppia abitava a londra e l'uomo col pretesto di partire per un viaggio prese alloggio in una strada vicina alla sua casa e lì all'insaputa della moglie e degli amici e senza un'ombra di motivo per questo volontario esilio visse per più di vent'anni durante questo periodo si recava ogni giorno a vedere la sua casa e non di rado anche la moglie abbandonata e dopo un così lungo intervallo della sua felice vita coniugale quando la sua morte era ormai data per certa diviso le sue proprietà cancellato il suo nome dal ricordo e la moglie ormai da tempo rassegnata alla sua autunnale pedovanza una sera costui si presentò alla porta di casa tranquillamente come dopo un giorno di assenza e divenne uno sposo devoto fino alla morte questi fatti essenziali sono tutto ciò che ricordo ma l'episodio per quanto assolutamente originale senza precedenti e probabilmente irripetibile è tale io credo da richiamare la generale curiosità della gente ciascuno di noi sa bene che non potrebbe commettere una simile follia eppure la sensazione che qualcun altro ne sarebbe capace questo episodio è stato ripetutamente oggetto delle mie personali riflessioni quantomeno suscitando sempre il mio stupore accompagnato però dalla sensazione che deve essere accaduto realmente nonché da una certa idea del carattere del suo protagonista ogni volta che un argomento richiama così insistentemente l'attenzione della mente è ben speso il tempo dedicato a riflettervi se il lettore preferisce lo lascerò alle sue personali riflessioni ma se volesse vagabondare come me attraverso quei vent'anni di stravaganza di Wakefield gli do il benvenuto confidando che vi sia contenuto un senso e una morale anche se non riusissimo a trovarli ben riordinati e condensati nella sua conclusione il pensiero ha sempre la sua utilità e ogni avvenimento singolare la sua morale che tipo d'uomo era Wakefield siamo liberi di farsene una nostra idea e di attribuirla a suo nome era allora nel fiore degli anni e le sue passioni coniugali ma esmodate si erano attutite in un sentimento tranquillo e consuetudinario tra tutti i mariti era probabilmente il più fedele perché una certa indolenza teneva a riposo il suo cuore ovunque potesse essere rivolto era un intellettuale ma non in modo attivo la sua mente si intratteneva in lunghe e oziose meditazioni che non tendevano a nessun fine o non avevano forza sufficiente per raggiungerlo i suoi pensieri erano di rado abbastanza risoluti da trovare un'espressione nelle parole l'immaginazione nel senso proprio del termine non faceva parte delle doti di Wakefield con un cuore freddo ma non corrotto né volubile con una mente mai infiammata da pensieri turbolenti né turbata da pensieri originali che avrebbe potuto immaginare che il nostro amico si sarebbe meritato un posto di primo piano tra gli autori di eccentriche imprese se ai suoi conoscenti fosse stato domandato chi era l'uomo in tutta Londra che sicuramente non avrebbe fatto oggi niente che potesse essere ricordato l'indomani tutti avrebbero pensato a Wakefield soltanto la compagna della sua vita avrebbe forse esitato pur senza aver analizzato il carattere del marito e l'avvertiva vagamente in lui un placido egoismo che aveva arrucinito la sua mente già inattiva una sua peculiare vanità la sua caratteristica più inquietante una certa disposizione all'inganno che di rado aveva prodotto effetti maggiori in qualche piccolo segreto che teneva celato e che non meritava nemmeno ad essere rivelato e infine quella che lei definiva una vaga stranezza che si manifestava a volte nel buon uomo questa sua ultima peculiarità era indefinibile e forse nemmeno esistente immaginiamo ora Wakefield mentre si congeda dalla moglie è il crepuscolo di una sera d'ottobre e lui indossa uno sbiadito cappotto un cappello coperto di tela serata stivali alti tiene un ombrello in una mano e una valigetta nell'altra ha informato sua moglie che deve prendere la diligenza della sera per la campagna lei vorrebbe informarsi sulla durata del viaggio sul suo scopo e sulla probabile data del ritorno ma rispettando quella sua innocua passione per il mistero si limita a interrogarlo soltanto con lo sguardo le dice di non aspettarlo con certezza al ritorno della diligenza e di non preoccuparsi se mai dovesse trattenersi fuori casa per tre o quattro giorni ma di attenderlo in ogni caso per venerdì sera all'ora di cena si può pensare che nemmeno lo stesso Wakefield ha ancora idea di ciò che accadrà le porse la mano lei gli dà la sua e si scambiano un bacio distratto come avviene dopo dieci anni di matrimonio poi il signor Wakefield un uomo di mezza età se ne va già quasi deciso a sconcertare la sua buona moglie con un'intera settimana di assenza dopo che la porta si è chiusa alle sue spalle lei si accorge che viene leggermente scostata e attraverso lo spiraglio ne appare il volto del marito che le sorride e un attimo dopo scompare alla sua vista in quel momento ella trascura l'episodio senza nemmeno pensarci ma molto tempo dopo quando è da più anni vedova che moglie quel sorriso riaffiora fugacemente in tutti i suoi ricordi del volto del marito nelle sue ripetute meditazioni circonda quel sorriso di una moltitudine di fantasie che lo fanno apparire strano e inquietante se per esempio lo immagina dentro una bara quello sguardo da Dio è razzelato sui suoi palli di lineamenti se lo sogna nei cieli il suo spirito mostra ancora quel tranquillo e scaltro sorriso ma è proprio per quel sorriso quando tutti gli altri danno Wakefield per morto che lei dubita a volte di essere vedova ma l'oggetto del nostro interesse è il marito dobbiamo affrettarci a seguirlo per strada prima che perda la sua individualità e si mescoli con la gran folla della vita londinese dove sarebbe inutile cercarlo seguiamolo allora da vicino finché dopo molte deviazioni e giri viziosi lo troviamo comodamente seduto accanto al caminetto di un piccolo appartamento da lui precedentemente affittato si trova ora nella strada accanto a quella di casa sua ed è giunto al termine del suo viaggio non riesce quasi a credere alla sua fortuna di essere arrivato fin là inosservato ricordando che a un certo punto è stato trattenuto dalla folla proprio sotto la luce di un vampione acceso che gli è sembrato di udire i passi che lo seguivano distinti dallo scalpiccio della moltitudine intorno a lui e che in un'altra occasione ha udito una voce che gridava e gli era parso che chiamasse il suo nome sicuramente almeno una decina di ficcanaso deve averlo visto e avrà già raccontato tutto a sua moglie povero Wakefield non ti rendi conto di come sei insignificante in questo vasto mondo nessun occhio di mortale tranne il mio ha seguito le tue tracce vattene tranquillamente a letto babbeo e domani se sei saggio ritorna a casa tua dalla buona signora Wakefield e dille tutta la verità non allontanarti mai nemmeno per una breve settimana dal tuo posto nel suo casto seno se mai anche per un solo momento ella dovesse considerarti morto scomparso o per sempre diviso da lei ti accorgeresti allora amaramente di un permanente turbamento nella tua fedele moglie è pericoloso provocare fratture negli affetti umani non perché esse si divaricano sempre più ma perché si chiudono così rapidamente quasi pentito della sua marachella o come ci voglia chiamarla Wakefield siccolica di buon'ora e trasalendo nel suo primo sonno allunga le braccia nella solitaria distesa di quel letto sconosciuto no, pensa avvolgendosi alle coperte non dormirò un'altra notte da solo il mattino dopo si alza più presto del solito e riflette seriamente su ciò che in realtà intende fare i suoi ragionamenti sono infatti così vaghi e tortuosi che egli è giunto a questa singolare decisione sì, con la coscienza di uno scopo ma senza la capacità di definirlo abbastanza bene per poterlo esaminare la nebulosità del progetto e il precipitoso impegno con cui si accentua a realizzarlo denotano in pari misura un uomo di debole carattere Wakefield tuttavia vaglia minuziosamente i suoi pensieri e si scopre la curiosità di sapere come vanno le cose a casa come la moglie esemplare sopporterà la sua vedovanza di una settimana come reagirà alla sua scomparsa la piccola cerchia di persone e cose di cui lui era al centro in fondo a tutta la faccenda c'è quindi la sua morbosa vanità ma come può conseguire il suo scopo non certo chiudendosi in questo comodo alloggio dove pur avendo dormito ed essendosi destato nella strada accanto a casa sua ne è infatti lontano come se la dirigenza lo avesse velocemente trasportato per tutta la notte ma se mai ricomparisse a casa tutto il suo piano andrebbe in fumo il suo povero cervello è disperatamente dilaniato dal dilemma e infine si avventura fuori di casa quasi decisa ad attraversare l'incroso per lanciare un frettoloso sguardo al suo domicilio abbandonato l'abitudine perché egli è un uomo abitudinario lo prende per mano e lo conduce assolutamente inconsapevole fino alla porta di casa dove proprio nel momento fatidico è risvegliato dallo scalpiccio del suo piede sul gradino Wickfield dove vai? in quel momento il suo destino sta ruotando su un perno senza pensare al futuro verso cui lo porterebbe quel primo passo indietro Wickfield fugge via ansimante per una citazione finora sconosciuta e non osa quasi voltare la testa quando giunge in fondo alla strada può essere che nessuno l'abbia visto gli abitanti della casa la decolosa signora Wickfield la scaltra servetta e il piccolo sudicio garzone non solleveranno un putiferio per le strade di Londra all'inseguimento del loro padrone e signore fuggitivo una fuga ben riuscita prende coraggio per fermarsi e guardare verso casa ma è sconcertato nel vedere una sorta di mutamento avvenuto in quell'edificio così familiare come capita a tutti noi quando a distanza di mesi o di anni rivediamo una collina un lago un'opera d'arte con cui eravamo una volta in rapporto comunemente questa indescrivibile sensazione è provocata dal confronto e dalla differenza tra i nostri imperfetti ricordi e la realtà nel caso di Wickfield invece è stato l'incantesimo di una sola notte a produrre una simile trasformazione perché in quel breve lasso di tempo è avvenuto un profondo mutamento morale anche se lui ne è ignaro prima di andarsene coglie una lontana e fuggevole apparizione di sua moglie mentre passa davanti alla finestra di fronte col viso rivolto verso il fondo della strada estamente l'inzenuo se la sguaglia temendo che tra tante migliaia di atomi di mortalità lo sguardo di lei possa averlo riconosciuto è felice in cor suo ma frastornato nella mente quando si ritrova davanti al caminetto del suo alloggio questo per quanto riguarda l'inizio di questa prolungata stravaganza dopo l'idea iniziale e tutto il fermento della pigra mente di quest'uomo per tradurla in pratica la vicenda si svolge secondo un ordine naturale possiamo immaginare che Wickfield dopo lunghe riflessioni acquisti nella bottega di qualche rigatiere ebreo una nuova parrucca di pelo rossiccio e scelga con cura vari indumenti di foggia diversa dal suo solito abito marrone è fatta ora Wickfield è un altro uomo stabilito un nuovo stile di vita un ritorno al vecchio sarebbe quasi altrettanto difficile del passo che l'ha portato in questa situazione senza precedenti e si incaponisce ancora più a causa di un'occasionale ombrosità nel suo carattere provocata ora dalla sensazione che nel cuore della signora Wickfield non è stata prodotta un'adeguata reazione non farà ritorno a casa fino a quando sua moglie non sarà spaventata a morte già due o tre volte lei è passata davanti ai suoi occhi ogni volta con passo più pesante più pallida e preoccupata in volto e la terza settimana dalla sua scomparsa egli vede entrare nella casa un funesto presagio nelle vesti di un farmacista l'indomani il battacchio della porta viene attutito con un panno verso sera arriva la carrozza di un medico e deposita il suo imparruccato e austero occupante davanti alla porta di casa da dove egli esce dopo una visita di un quarto d'ora forse preannunciante un funerale povera donna morirà a questo punto Wickfield è in preda a un certo fermento di sentimenti ma ancora si trattiene lontano del capezzale della moglie e si giustifica con la propria coscienza dicendosi che ella non deve essere disturbata in quel momento critico se qualcos'altro lo trattiene egli non se ne rende conto nel corso di alcune settimane la moglie si ristabilisce la crisi è superata il suo cuore è afflitto forse ma tranquillo e presto o tardi che lui ritorni non sarà più tormentato a causa sua queste idee balenano nella nebbia della mente di Wickfield il quale acquista confusamente coscienza del fatto che un baratro ormai quasi incolmabile separa ora l'alloggio preso in affitto dalla sua casa di un tempo è soltanto nella strada accanto dice talvolta Trachet sciocco in un altro mondo finora ha rimandato il suo ritorno da un giorno all'altro ma ora questa data diviene imprecisa non domani forse la prossima settimana abbastanza presto comunque poveretto le morti hanno pressapoco le stesse probabilità che ha l'autoesiliato Wickfield di rivisitare le loro dimore terrene come vorrei avere un infoglio da scrivere anziché un racconto di una decina di pagine potrei allora spiegare come un'influenza al di là del nostro controllo prende nelle sue salde mani ogni atto che noi compiamo e ne ordisce in un ferreo tessuto le inevitabili conseguenze Wickfield è ora prisioniero del suo destino dobbiamo ora lasciarlo per una decina d'anni mentre si aggira intorno a casa sua senza varcarne mai la soglia sempre fedele a sua moglie con tutta la devozione di cui è capace il suo cuore mentre la sua figura lentamente sbiadisce in quello di lei già da tempo si deve rilevare e gli ha perso coscienza della bizzarria del suo comportamento ed ecco la scena fatale nel mezzo della folla di una strada londinese riconosciamo un uomo ormai avviato alla vecchiaia con poche caratteristiche che possano richiamare l'attenzione di osservatori distratti il quale mostra tuttavia in tutto il suo aspetto l'impronta di un destino non comune per coloro che hanno la capacità di vederla è dimagrito la sua fronte bassa e stretta è percorsa da profonde rughe i suoi occhi piccoli e opachi si guardano talvolta intorno nervosamente ma più spesso sembrano guardare dentro di sé cammina a capochino con una strana andatura obliqua come se non volesse mostrare al mondo la vista frontale di sé osservatelo abbastanza bene per vedere ciò che abbiamo descritto e anche voi dovrete convenire che le circostanze le quali spesso creano persone singolari da un comune prodotto della natura hanno qui forgiato uno di questi uomini dopo averlo lasciato mentre cammina furtivamente sul marciapiede volcete ora lo sguardo nella direzione opposta dove una donna prosperosa giunta evidentemente al declino della vita sta dirisendosi con un libro di preghiera in mano verso la chiesa vicina il suo placido contegno è quello di una vedova ormai abituata alla sua condizione i suoi rimpianti si sono ormai sopiti oppure sono divenuti così indispensabili al suo cuore che potrebbero essere quasi scambiati per una gioia proprio mentre l'uomo magro e la donna prosperosa stanno passando avviene un breve ingorgo che porta le due persone direttamente a contatto però i romani si toccano la pressione della folla spinge il seno di lei contro la spalla dell'uomo e si trovano lì faccia a faccia guardandosi l'un l'altra negli occhi ed è così che dopo dieci anni di separazione Wickfield incontra sua moglie poi la folla li trascina via separa le loro strade la tranquilla vedova riprende il suo passo e prosegue verso la chiesa ma si ferma davanti al portale e lancia uno sguardo perplesso nella strada ma poi varca la soglia aprendo il suo libro di preghiere e l'uomo la sua espressione è così stravolta che anche i londinesi così affacendati e individualisti si fermano a guardarlo mentre si affretta a ritornare al suo alloggio e lì giunto chiude col chiavistello la porta e si getta sul letto i sentimenti sopiti negli anni ora prorompono e la sua fragile mente riceve una momentanea energia dal loro impulso tutta la miserabile stravaganza della sua vita gli si rivela in un lampo e allora esclama con tutta la sua passione Wickfield tu sei pazzo forse era proprio così la peculiarità della sua situazione deve averlo condizionato a tal punto che a confronto con i suoi simili e con la vita in generale non si può dire che egli possedesse tutte le sue facoltà mentali gli è riuscito o piuttosto gli è capitato di separarsi dal mondo di scomparire di rinunciare al suo posto e ai suoi privilegi tra i viventi senza però essere ammesso tra i defunti la vita dell'eremita non è paragonabile alla sua egli viveva una volta nel fermento della città ma la folla gli è passata accanto e non l'ha visto è sempre stato si può dirlo in senso figurato accanto al suo mogli e al suo focolare ma senza mai sentire il calore dell'uno né l'amore dell'altra il destino particolare di Wickfield era quello di conservare il suo posto di prima negli affetti degli esseri umani e di essere ancora coinvolto nei loro interessi mentre aveva ormai perduto ogni sua influenza su ambedue sarebbe interessante ricostruire qui gli effetti di tali circostanze sul suo cuore e sulla sua mente separatamente nell'insieme eppure per quanto fosse mutato raramente se ne rendeva conto ma si considerava sempre apparivano ma solo momentaneamente ed egli continuava a ripetersi ritornera presto senza accorgersi che continuava a dirlo ormai da vent'anni penso che questi vent'anni dovevano sembrargli retrospettivamente di poco più lunghi della settimana che aveva inizialmente posto come limite alla sua assenza e che considerava tutta la vicenda poco più di un interludio tra le cose più importanti della sua vita quando dopo un po' di tempo ancora avesse deciso che era tempo di far ritorno nel suo salotto sua moglie avrebbe battuto le mani di felicità nel vedersi riapparire davanti quell'attempato signor Wickfield quale errore ahimè se il tempo attendesse la fine delle nostre amate follie saremmo tutti quanti giovani e fino al giorno del giudizio una sera vent'anni dopo la sua scomparsa Wickfield sta facendo la sua solita passeggiata verso la dimora che considera ancora sua è una ventosa sera d'autunno con frequenti scrosci di pioggia che battono il scelciato e terminano prima ancora che si sia aperto l'ombrello fermatosi nei pressi di casa sua Wickfield intravede attraverso le finestre del salotto al secondo piano il riverbero rossastro i guizi e i bagliori delle fiamme di un allettante focolare sul soffitto appare l'ombra grottesca della buona signora Wickfield la sua cuffia da notte il naso il mento le larghe anche formano una bizzarra caricatura che danza insieme con le fiamme che s'alzano e s'abbassano un'ombra quasi troppo gaia per essere quella di un'anziana vedova proprio in quel momento vuole cadere uno scroscio d'acqua che una dispettosa folata di vento getta sul volto e sul petto del signor Wickfield penetrandolo col suo gelo autunnale deve rimanere lì inzuppato e tremante quando nel suo cammino è acceso un bel fuoco che lo riscalderà mentre sua moglie corre a prendergli la vestaglia grigia e gli indumenti intimi che di sicuro ha amorevolmente custodito nell'armadio della loro camera da letto no Wickfield non è così sciocco sale i gradini con passo pesante perché vent'anni gli hanno rattrappito le gambe da quando gli ha scesi l'ultima volta anche se lui non se ne rende conto fermati Wickfield vuoi proprio andare nella sola dimora che ti è rimasta allora calati nella tua tomba la porta si apre e mentre lui ne varca la soglia diamo un ultimo sguardo di commiato al suo volto e riconosciamo quel furbesco sorriso che aveva anticipato l'innocente burla che egli ha continuato a giocare ai danni della moglie come ha imbrogliato impietosamente quella povera donna beh auguriamo a Wickfield una buona notte di riposo questo lieto evento ammesso che sia tale può essere avvenuto soltanto senza premeditazione non seguiremo il nostro amico al di là della soglia ci ha già offerto sufficiente materia di meditazione e questa dovrà almeno in parte prestarsi a una morale e prendere la forma di una metafora nell'apparente confusione del nostro mondo misterioso gli individui sono così ben adattati a un sistema e i sistemi l'uno all'altro e a tutto un insieme che un uomo se si fa da parte per un solo attimo si espone al terribile rischio di perdere il suo posto per sempre al pari di Wickfield e gli può divenire per così dire il reietto dell'universo l'universo